La IOMI Salerno è l'unica formazione italiana femminile iscritta alle Coppe Europee per la stagione 2017-2018. La vincitrice dello scudetto al termine dello scorso campionato prenderà parte alla European Handball Female Cup con doppio appuntamento al primo turno in calendario nel prossimo mese di settembre. Capitan Coppola e compagne scenderanno in campo tra il 9 e il 10 settembre per il match d'andata, la sfida di ritorno in programma tra il 16 e il 17 settembre. La IOMI Salerno conoscerà il nome del suo avversario il 18 luglio quando a Vienna si terrà il sorteggio per definire gli accoppiamenti relativi al primo turno di European Handball Female Cup sia maschile che femminile. Con ogni probabilità il doppio impegno europeo farà slittare la sfida di Supercoppa italiana tra le salernitane e l'indico conversano in programma per il 9 settembre. Intanto sul fronte squadra nella prossima settimana la società cara al patron Mario Pisapia annuncerà il nome del tecnico che guiderà la squadra nella stagione 2017-2018.